La crisi economica generata dal Covid e dall'emergenza sanitaria di questi mesi ha toccato anche il settore dei trasporti. Oggi in tutta Italia sono scesi in piazza i taxisti per denunciare le difficoltà riscontrate in questo periodo. Anche a Pesaro era presente una delegazione di questo settore. Questa pandemia non è finita dopo i primi 14 mesi. C'è un eccesso di offerta. Noi siamo tante partite ive, tanti tassisti nella provincia di Pesaro, siamo una sessantina. Il nostro problema fondamentale è il lavoro, che ci devono permettere di lavorare. C'è un sacco di smart working, un sacco di ditte che sono chiuse e che non riapriranno, treni che arrivano dimezzati di numero e di capienza, locali chiusi, coprifuoco, chi dobbiamo trasportare noi, senza contare che questi sostegni o ristorio, come qual si voglia chiamare, sono insufficienti, è un'elemosina. Chiediamo attraverso il confrattigianato, Uritax e tutte le sigle sindacali che ci rappresentano fondamentalmente sei punti. Chiediamo un fondo di 800 milioni di euro per tutta la categoria nazionale a sostegno delle cooperative, delle partite ive e del nostro settore. Chiediamo un anno figurativo, un anno bianco fiscale e contributivo. Chiediamo la rintroduzione del detassamento delle accise sui carburanti. Una sospensione, una proroga di mutui finanziamenti e leasing, sia sul lavoro che sulle nostre auto. Una semplificazione da parte dei comuni, dei voucher taxi che sono stati istanziati per noi. Chiediamo inoltre un ecobonus per le auto elettriche, per il cambio e per il modernamento del nostro settore sulla falsa riga del super bonus del 110% dell'edilizia. Oggi vediamo a Pesaro una manifestazione che però si sta replicando in tutta Italia, quindi in tutte le piazze italiane c'è questa presenza, ordinata, precisa, secondo le norme, ma ferma a chiedere un sostegno importante. Abbiamo consegnato un documento al prefetto che si farà portavoce delle richieste dei nostri taxi al ministro Giannini dei Trasporti. Già ieri c'è stato un rappresentante di Confartigianato Nazionale Taxi e ha parlato in maniera molto precisa e amichevole con il vice ministro, che ha già accolto le nostre richieste. Oggi però ci sarà appunto questa visibilità, che è molto importante per noi e per la categoria, perché ci teniamo, ecco, ci teniamo che i nostri associati, ma anche tutti quelli che lavorano per il servizio taxi, siano ascoltati e sostenuti. Abbiamo anche chiesto l'ampliamento dei buoni viaggi, che per una legge nazionale sono arrivati a tutti i comuni d'Italia, comuni capoluogo, e abbiamo già ottenuto un'attenzione importante da parte del prefetto. I buoni viaggi consentono alle persone disagiate, le persone, famiglie numerose, persone ultra settantene in difficoltà, di usare il taxi con questo buono da 10 euro. Quindi serve per aumentare il flusso del trasporto. Abbiamo chiesto anche di tener conto delle città non capoluogo, fanno per esempio 60.000 abitanti, potrà fare anche, avere il buono viaggio. Il prefetto si è preso buona nota di questa richiesta e la porterà al governo.